Tra fine ottobre e la metà di novembre è stata realizzata la seconda indagine sulle imprese nella crisi Covid realizzata dall'Istat. Si tratta di un'indagine che ha coinvolto un campione di 90.000 imprese con un tasso di risposta piuttosto elevato, analogamente alla prima edizione. La seconda indagine testimonia i progressi da un lato e qualche elemento di criticità che permane dal punto di vista delle imprese nell'emergenza sanitaria. Il primo dato che risalta è che comunque tra giugno e ottobre, nonostante la ripresa economica, ci sono state riduzioni di fatturato rispetto all'anno precedente per oltre due terzi delle imprese. Questo è un dato chiaramente che testimonia la persistenza di una situazione di crisi di vendite nonostante la ripresa economica che c'è stata nel corso dell'estate. Un secondo aspetto è dato dalla presenza analogamente alla prima edizione, seppur in maniera un po' più ridotta, di una larga fetta di imprese che segnala seri rischi di sostenibilità dell'attività operativa. Quindi si tratta di un terzo di imprese che occupano circa un quinto dell'occupazione delle imprese italiane che mostra appunto preoccupazione per quanto riguarda proprio la stessa tenuta operativa. All'interno di questo segmento abbiamo un 15% di imprese, quindi la metà di quest'area, che è veramente ad alto rischio. Quindi oltre a questa percezione soggettiva di rischio operativo segnala la presenza di fatti oggettivi per quanto riguarda soprattutto l'andamento delle vendite e una serie di altre criticità di tipo gestionale e di mercato che fanno ritenere all'istat appunto il fatto che esista un'area pari a circa un sesto delle imprese italiane che presenta profili di rischio molto elevati. Un dato positivo in questa vicenda Covid è dato dal fatto che le imprese, spinte chiaramente dall'emergenza sanitaria, hanno accelerato moltissimo la transizione digitale. Questo è un elemento di grande interesse che pensiamo che rimarrà in termini di persistenza anche una volta superata la crisi. Quindi le imprese italiane hanno ad esempio aumentato moltissimo la presenza sul web per quanto riguarda le vendite, quindi il ricorso all'e-commerce. Hanno aumentato tantissimo gli strumenti digitali, di comunicazione interna, soprattutto nelle grandi imprese è stato molto importante e poi ha favorito il ricorso allo smart working. Hanno aumentato tantissimo il ricorso ai social, ad esempio, per quanto riguarda il contatto con la clientela. A fronte di questo quadro persiste ovviamente un tema di tutela del lavoro. Abbiamo circa il 42% di imprese che tra giugno e ottobre ha continuato a fare ricorso alla cassa integrazione, questo è un elemento chiaramente importante. Nonostante la crisi, questo è un ultimo elemento interessante, nonostante la crisi abbiamo rilevato intenzioni espansive, almeno nelle intenzioni, da parte del 25% delle imprese. Quindi un quarto delle imprese italiane, nonostante la crisi, manifesta la volontà di intraprendere, una volta finita, questa emergenza sanitaria ed economica, un percorso di espansione.